Buonasera e benvenuti a Millibar. Come avrete capito già dalle prime inquadrature non ci troviamo nel nostro consueto studio di Termoli ma siamo a San Martino in Pensilis nella chiesa parrocchiale dedicata a San Pietro Apostolo e oltre al luogo anche l'ospite. Questa sera è d'eccezione. Diamo il benvenuto nella nostra trasmissione a sua eccellenza Monsignor Leo Boccardi, nunzio apostolico in Iran. Abbiamo alle nostre spalle l'altare dedicato a San Leo, il patrono di questa comunità e ci piace ricordare in avvio di questa trasmissione che chiude il ciclo di Millibar per l'anno 2015, una sorta di miracolo almeno è vissuto come tale in questa comunità perché è di poche settimane, di pochi giorni la notizia di questa liberatoria per le carresi non solo di San Martino in Pensilis ma anche di Ururi e Portocannone che nell'anno 2016, nell'anno che verrà, potranno tornare a celebrarsi. Ma entriamo subito nel nostro argomento di questa sera, l'ospite d'eccezione, quindi parleremo di temi che non hanno carattere prettamente locale ma sono temi di carattere internazionale. Innanzitutto, buonasera eccellenza, la domanda è d'obbligo, facciamo capire a casa chi è un nunzio apostolico e come si arriva a diventare un nunzio apostolico. Buonasera, grazie del suo gentile invito a partecipare a questa trasmissione che mi dà l'occasione di parlare, di illustrare del mio servizio, della mia missione come nunzio apostolico e nello stesso tempo di dire qualcosa di un grande paese come l'Iran del quale non si sente spesso parlare nei media e nella televisione. Gli ha chiesto qual è la missione di un nunzio apostolico. Il nunzio apostolico o rappresentante pontificio, come dice la parola, è il rappresentante del Santo Padre e della Santa Sede presso una chiesa locale, una chiesa particolare e un paese con il quale la Santa Sede intrattiene le relazioni diplomatiche. La storia delle relazioni diplomatiche tra Iran e Santa Sede è piuttosto lunga ed è una felice coincidenza che il giorno dello stabilimento delle relazioni diplomatiche avvenne proprio il 2 maggio 1953, quindi la festa di San Deo nell'anno in cui io sono nato tra Pio XII e il primo ministro Mossadegh, il primo ministro dello Shah di Persia. Ebbene in questi 63 anni di relazioni diplomatiche non c'è stato mai un periodo in cui queste sono state interrotte, neanche nei momenti di crisi, nei momenti della rivoluzione. Il rappresentante pontificio è stato sempre presente a Teheran. La mia opera si svolge su due piani, il piano ecclesiale pastorale e il piano diplomatico internazionale. Come nunzio apostolico io sono accreditato presso il governo iraniano e nello stesso tempo sono accreditato presso la chiesa locale alla quale ho presentato la lettera del cardinare Bertone che mi presentava alla comunità cristiana come rappresentante del Santo Padre. Che cosa fa un nunzio in questo paese? Soprattutto incoraggia i cristiani, difende i cristiani, collabora con i vescovi, collabora a livello di conferenza episcopale e nello stesso tempo tiene informata la Santa Sede di tutto quello che questa chiesa fa a livello pastorale, a livello sociale. L'altro aspetto molto importante è quello tipicamente diplomatico e internazionale. Tutta questa attività è regolata dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche per cui il rappresentante della Santa Sede è un ambasciatore tra tutti gli altri ambasciatori e membro del corpo diplomatico e anche lì abbiamo una missione da svolgere quella di portare la presenza del Santo Padre a livello internazionale, quella di ricordare alle autorità politiche la difesa dei diritti umani, della libertà religiosa, la difesa dei cristiani, lo sforzo per costruire la pace. Tutto questo, diciamo, mi impegna, mi impegna quotidianamente in un lavoro che non è soltanto di ufficio ma è fatto di contatti umani, di visite, di viaggi. L'Iran è un paese immenso. Pensi che per raggiungere la città più vicina, Teheran, parlo di, non so, Mashhad o Urmia o Persepolis, ci vogliono 6-7 ore di macchina. Allora si preferisce andare con l'aereo, non sempre molto sicuro, comunque ci affidiamo a Dio e vogliamo tranquilli, proprio per assicurare una presenza visibile che incoraggia, che fa sentire vicino il Santo Padre. Vede, la missione di un unzio apostolico è di essere una cerniera tra la Chiesa di Roma e le Chiese locali. Queste Chiese locali vivono la comunione con il Santo Padre, che non è soltanto una comunione affettiva, è una comunione effettiva, cioè dei legami particolari che fanno sentire allo stesso tempo la presenza del Papa in quel paese e l'informazione che da quel paese può arrivare alla Santa Sede. Quindi io devo stare con gli occhi aperti, con le orecchie tese, per capire, per individuare, per portare a conoscenza della Santa Sede tutto quello che si svolge in un contesto particolare. Ecco, eccellenza, viviamo in un mondo che per certi aspetti è in fiamme, in nome di Dio o di un presunto Dio, si compiano attentati e crimini. Lei vive in una nazione a larghissima maggioranza islamica, il 98% della popolazione iraniana è islamica, l'89% è sciita, con una piccola minoranza sunnita. Poi ci sono altre religioni, tra cui il cristianesimo, riconosciute proprio dalla Costituzione, dall'articolo 13 della Costituzione iraniana. Di cristiani all'incirca ne sono stimati 150.000, di cui 22.000 cattolici. Le chiedo, qual è lo stato del dialogo interreligioso in Iran e se c'è un dialogo con le altre confessioni? Certamente che esiste il dialogo interreligioso sia a livello istituzionale che a livello di ordinario, così di contatti che abbiamo stabilito soprattutto con le università islamiche di Qom. Il dialogo interreligioso a livello istituzionale è iniziato nel 1976 tra il Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso e la Repubblica Islamica dell'Iran. Da quell'anno, ogni due anni, si svolge a Teheran e poi a Roma un incontro tra le due delegazioni preposte a portare avanti questo dialogo che si svolge su tematiche molto ampie. L'ultimo, ad esempio, è stato rivolto la lotta contro l'estremismo, il terrorismo e il ruolo che le religioni possono svolgere per costruire la pace nel mondo. È venuto il Cardinale Toran, che è il Presidente del Pontificio Consiglio, con una delegazione vaticana. Sono stati ospiti dell'Annunziatura e anch'io ho partecipato come membro della delegazione della Santa Sede a questi tre giorni di dialogo. Ma, ripeto, questo è il dialogo istituzionale che si svolge ai massimi livelli. Santa Sede, rappresentanti del governo della Repubblica Islamica dell'Iran. Ma c'è un contatto, ci sono delle relazioni quotidiane che si svolgono a livello di annunziatura apostolica, di conferenza episcopale e le istituzioni universitarie e religiose presenti soprattutto nella città santa di Qom. Qom è la capitale dell'Islam sciita. Lì è venuto Qomeini, lì insegnava Qomeini, lì ci sono le più grandi menti, i più grandi teologi islamici. Pensi che soltanto nella città di Qom mi sembra che gli studenti di teologia islamica sono 150.000. Lei può immaginare che si tratta di una università gregoriana immensa. E allora queste istituzioni cercano un dialogo con i rappresentanti della Santa Sede, con la Chiesa Cattolica. E vi faccio alcuni esempi. E proprio il 3 dicembre scorso, alla vigilia dell'apertura della Porta Santa, abbiamo inviato dall'Iran tre ayatollah che sono andati all'università, alla Pontificia Università Lateranense per partecipare ad una conferenza sulla misericordia. Ebbene, questi tre ayatollah hanno portato il pensiero islamico sciita sulla misericordia di Dio. Lei ha notato che ogni volta che c'è una dichiarazione di un imam, di un personaggio politico, si comincia sempre nel nome di Dio clemente e misericordioso. Bismillah Rahman Rahim, nel nome di Dio misericordioso. Allora questi tre ayatollah hanno partecipato a questa conferenza alla vigilia dell'anno giubilare per dire anche Allah è un Dio di misericordia. E noi cerchiamo di presentare a voi cristiani che crediamo nello stesso Dio, che cos'è la misericordia per noi in questo mondo che ha bisogno della misericordia. E questo è un esempio di questo dialogo. Un altro piccolo esempio. Alla fine di novembre, scusi, alla fine di ottobre sono partiti da com dieci seminaristi islamici che stanno nel seminario islamico per diventare degli imam. Sono venuti a Roma per vedere cosa si insegna nelle università pontifice, come si vive in parrocchia, che cos'è la vita cristiana a Roma e sono tornati entusiasti per aver visto Roma, il Vaticano, le università, le parrocchie. Questo è un dialogo che rende necessaria, che si rende necessario per una conoscenza reciproca, per una stima reciproca, per fuggire gli stereotipi, per fuggire ogni forma di dubbio che ci può essere a livello di rapporti umani. Ecco, eccellenza, lei ha parlato di terrorismo, ma ha anche detto che Alla è un Dio misericordioso. Una distinzione anche semplicistica che viene fatta a livello generale, quella tra un islam moderato e un islam fondamentalista. Ma se Alla è un Dio misericordioso, com'è possibile che si compiano delle stragi in nome di questo Dio? Qual è la sua opinione? La mia opinione è stata, è quella che il Santo Padre ha espresso recentemente, e cioè uccidere in nome di Dio è una bestemmia. Nessuno può usare il nome di Dio per compiere simili violenze o essere ispirato da motivi religiosi o per atti di terrorismo che uccidono tante vittime innocenti. Per ritornare al tema dell'islam sciita o alla situazione in Iran, il giorno dopo, pensi che la sera prima degli attentati di Parigi, il presidente Rouhani era sull'aereo per partire per Roma per incontrare non soltanto il presidente Mattarella, l'onorevole Renzi, ma il Santo Padre. E Rouhani e tutto il governo iraniano ha condannato nella maniera più netta questi attentati, che sono soprattutto una violazione della fede islamica. Nessuno può benedire questi atti di terrorismo. Questi terroristi non sono dei credenti, usano la religione per altri fini, strumentalizzano la religione per altri fini. È una bestemmia, è un orrore attribuire a Dio, all'ispirazione di Dio, atti simili. Quindi tra religione e terrorismo non ci può essere nessuna relazione e nessuna identità. Un altro tema caldo che riguarda l'Iran, almeno tale è, e in questa forma è vissuto in Occidente, è quello del rispetto dei diritti umani. In Iran l'Islam è legge di Stato dal 1979. Non è un mistero che in Iran ci sia la pena di morte. Lei che vive in quel territorio, come convive da cattolico con questo fenomeno, con questa barbarie della pena di morte? Beh, come lei sa, la lista dei paesi nei quali vige la pena di morte purtroppo è ancora molto lungo e anche i maestri di democrazia prevedono nel loro ordinamento civilo e penale purtroppo ancora la pena di morte. Molti hanno aderito a una moratoria, l'Iran no. Ed è stato spiegato anche recentemente dal Presidente Rouhani in un'intervista al giornalista del Corriere della Sera che gli poneva la stessa domanda. Lei sa in quale contesto è situato l'Iran? Quali sono i vicini di questo paese? C'è il Pakistan, c'è l'Afghanistan, c'è la Siria, c'è l'Iraq, c'è la Turchia. Sono vicini molto problematici che possono esportare dei grandi pericoli e ad esempio oltre all'esportazione del terrorismo con i quali l'Iran ha dovuto convivere e lottare. Dopo le dirò qualcosa. Abbiamo fatto il mese di ottobre una conferenza internazionale sulle vittime del terrorismo alla quale anch'io sono stato invitato a partecipare. L'Iran ha avuto centocinquantamila morti ammazzati dal terrorismo. L'Iran. E la stessa guida suprema, Kamenei, è senza un braccio che gli è saltato rispondendo a un telefono nel quale avevano messo la bomba. non ha la mano destra, non ha la mano destra la guida suprema perché ha una mano meccanica per dire usano, vige ancora, la pena di morte soprattutto come deterrente per il commercio di stupefacenti. sono tonnellate e tonnellate di marijuana e eroina che vengono importati dall'Afghanistan che pone molti problemi alla sicurezza nazionale del Islam. E per questo il Presidente ha detto dobbiamo ricorrere a tutti i mezzi. Per noi la pena di morte è un deterrente e viene applicata soprattutto per i trafficanti di droga, per gli assassini, non per delle colpe minori, diciamo così. L'Iran dalla rivoluzione come inista del 79 a oggi io credo che ha fatto un lungo cammino. E gli accordi che sono stati siglati a Vienna, una città a me tanto cara il 14 luglio scorso per me rappresenta davvero la caduta di un muro che ha permesso all'Iran di essere riammesso nella comunità internazionale e ha permesso all'Iran di giocare il ruolo che gli compete come un grande attore nella politica non soltanto medio orientale ma a livello mondiale. Tutti siamo concordi nel ritenere che senza la partecipazione dell'Iran è molto difficile raggiungere la pace in Siria, in Iraq, ad avere un presidente in Libano perché l'Iran rappresenta una realtà stabile. nel prossimo febbraio ci saranno le elezioni parlamentari il presidente Rouhani è il settimo presidente della rivoluzione comunista vuol dire che c'è un processo democratico in corso sempre però rimanendo in quella in quella prospettiva come io sottolineavo all'inizio io mi trovo nella Repubblica Islamica dell'Iran Quell'Islamica che cosa significa? Significa che la rivoluzione comunista ha prodotto questo la religione ha preso il posto della politica la religione guida la politica e siccome la fede islamica rappresenta un dato al quale i musulmani sciiti non vogliono rinunciare il secondo articolo della Costituzione iraniana prevede che la signoria di Dio la legge di Dio ha il primo posto nello nello stato nello statuto della Repubblica della Repubblica iraniana ecco eccellenza in questa legge di Dio qual è il posto che ha la donna in Iran? Un'altra bella domanda che mi permette di fare una fotografia dell'Islam di oggi certamente anche a me ha fatto impressione quando sono arrivato a Teheran una doppia impressione devo dire la prima è quella di di trovarmi a Piazza Navona o a Piazza di Spagna o in una di queste zone di Roma dove è possibile vedere ragazzi che suonano la chitarra con i rasta vestiti tutti con i blue jeans una realtà alla quale io non ero preparato ad incontrare nello stesso tempo convivono altre realtà che io chiamo le addolorate di Teheran tutte queste donne velate con il chador ma sotto vestono fendi o dolce gabbana come dire ho cercato di capire di sentire anche lo stato d'animo di queste ragazze però hanno insistito su un aspetto l'aspetto del pudore la cosa mi ha colpito perché come lei sa anche in Iran c'è internet ci sono le parabole sui tetti tutti vedono le televisioni internazionali e quando si vedono alcuni programmi di rock star che sono praticamente nude e aggressive loro si sentono molto risentite per dire ma è quella l'immagine della donna che voi avete per noi la donna ha un ruolo molto più modesto molto più pudico la donna non si svende allora questo coprirsi non è per come dire una una immagine una immagine che tutto è cattivo che tutto deve essere protetto no certamente che nel nel Corano non c'è nessuna formula che dice che la donna si deve coprire ok ci sono delle realtà culturali locali che che impongono un ruolo diciamo così piuttosto subalterno subalterno alla condizione maschile ecco era proprio su questo che volevo interlocuire con lei fino a pochi anni fa era in vigore addirittura la lapidazione in Iran per il reato di adulterio se così possiamo definire questo atto se possiamo definirlo un reato questa condizione di sottomissione che proporzione ha in realtà perché qui da noi in occidente arriva un mondo molto arcaico probabilmente lei da osservatore presente sul luogo ci può dare un'altra impressione sì le posso dire che come ho accennato prima c'è un processo di evoluzione in questo paese ad esempio il numero elevatissimo dei divorzi che c'è in Iran e questi divorzi sono richiesti dalle donne la donna può andare dal giudice e chiedere il divorzio e viene concesso un altro aspetto che per dirle per dirle che questo ruolo della donna è cambiato e si vede io devo prendere devo cogliere soprattutto come dire i segni positivi è facile fare le critiche a ogni paese possiamo fare le critiche o usare degli stereotipi come la mafia come l'andrangheta come tante cose ma io dico ad esempio che in Iran ci sono tre donne vicepresidenti della Repubblica che il port parole del ministero degli esteri è una donna o è stata una donna fino a qualche settimana fa adesso è stata nominata prima donna ambasciatore islamico dell'Iran presso la Malaisia come vede si sta uscendo da questa forma di essere subalterno con un ruolo positivo che svolge nella società se lei va all'università di Teheran lei non può immaginare quante studentesse universitarie ci sono nella facoltà di medicina nella facoltà di fisica nucleare nella facoltà di ingegneria certo vanno con il velo in testa ma lo spirito è libero questo si vede questo si percepisce come trattano gli stranieri il dialogo che c'è con noi l'accoglienza che si riceve nei parchi nelle metropolitane nei luoghi di teatro ad esempio qualche settimana prima delle mie vacanze c'è stata la nona di Beethoven nel teatro di Teheran c'è una fama una fame di modernità c'è un desiderio di dialogo di apertura che dà dell'Iran un'immagine molto diversa della quale noi spesso abbiamo qui in Europa bene un'ultima domanda per concludere questa nostra prima parte di Millibar in compagnia di sua eccellenza Monsignor Leo Boccardi annunzio apostolico in Iran sull'Iran c'è stata una diatriba internazionale lei accennava che gli accordi di Vienna hanno fatto finalmente chiarezza tra l'altro lei nella sua garriera di diplomatico è stato osservatore alle Nazioni Unite a Vienna il tema centrale la questione centrale che ha visto separato l'Iran da una parte del mondo dagli Stati Uniti da Israele è stato quello della ricerca nucleare si accusava in buona sostanza l'Iran di fare queste ricerche queste sperimentazioni a scopi militari così non è ecco lei come può raccontarci questa storia ho avuto l'opportunità e direi a questo punto anche la fortuna di trascorrere sei anni a Vienna come rappresentante della Santa Sede presso gli organismi internazionali in quella capitale austriaca sia presso l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa organismo della quale la Santa Sede è membro dagli accordi di Helsinki e poi di rappresentante permanente della Santa Sede presso l'Agenzia Atomica e anche lì la Santa Sede è membro fondatore dell'Agenzia Atomica fin dal 1956 la comunità internazionale dopo Hiroshima e Nagasaki si è posto il problema mai più usare l'arma nucleare come distruzione di massa e chi può come dire aiutare la comunità internazionale ad avere questa prospettiva di pace la Santa Sede è stata chiamata come membro fondatore dell'Agenzia Atomica ebbene neanche a farla apposta il mio posto nella sala grande della IEA Holisi Hiran accanto a me stava sempre il rappresentante iraniano che doveva veramente intervenire con grande abilità e capacità per informare la comunità internazionale che il programma nucleare iraniano non aveva nessuno scopo militare e che l'Iran non aveva intenzione di costruirsi una bomba atomica ma di pensare a delle fonti di energie alternative non soltanto del petrolio o del gas di cui l'Iran è un produttore mondiale ma di sviluppare anche il suo programma nucleare sappiamo che questo ha dovuto essere verificato dagli osservatori della IEA che per anni hanno analizzato i residui dei vari reattori nucleari iraniani ma non hanno trovato nessuna pistola fumante che dimostrasse che l'Iran davvero utilizzasse l'energia nucleare per scopi militari finalmente il 14 luglio scorso grazie all'impegno che c'è stato dei membri permanenti del consiglio di sicurezza più la Germania si è arrivato il 14 luglio a siglare questo accordo che da una parte faceva terminare le sanzioni che hanno molto influito sulla vita economica e sociale dell'Iran le sanzioni delle Nazioni Unite le sanzioni degli Stati Uniti d'America e le sanzioni europee proprio oggi si svolge a Vienna un'altra riunione per stabilire le modalità di l'implementazione di questo accordo che permetterà con la con queste sanzioni che verranno tolte finalmente un grande sviluppo economico che l'Iran è pronto a fare con la settimana scorsa 380 aziende italiane sono venute in Iran per proporre e per vedere come stabilire delle relazioni economiche come investire come riallacciare i rapporti economici con questo grande paese che rappresenta un bacino ben più grande di quello della Turchia alla quale l'Unione Europea fa l'occhiolino da anni l'Iran è pronto a ricevere questa collaborazione e a riallacciare i contatti i rapporti commerciali con i suoi partner bene si chiude qui la nostra prima parte di questa puntata speciale Millibar che sta andando in onda in esterna non siamo nel nostro studio di Termoli siamo nella chiesa parrocchiale di San Martino in Pensilis in compagnia di sua eccellenza Monsignor Leo Boccardi che è peraltro originario proprio di questa comunità Nunzio Apostolico in Iran abbiamo parlato di temi di carattere internazionale nella seconda parte parleremo di temi che riguardano invece la fede una breve pausa eccoci di nuovo in onda con Millibar siamo nella chiesa parrocchiale di San Martino in Pensilis in compagnia di sua eccellenza Monsignor Leo Boccardi Nunzio Apostolico in Iran nella prima parte abbiamo parlato di temi di carattere internazionale di diritti umani di ricerca atomica del lavoro che un Nunzio Apostolico svolge in una nazione adesso invece addentriamoci nel territorio della fede eccellenza lei è un prete siamo in pieno anno giubilare l'anno giubilare della misericordia cos'è la misericordia di Dio questa è una bella domanda questa è una bella domanda che cos'è la misericordia di Dio è il volto di Dio che si rivolge sulle miserie umane la nostra lingua ci permette di capire anche dal punto di vista semantico la parola misericordia che è composta da due parole miseria e cuore quando il cuore si accosta alla miseria ecco che c'è la misericordia quando ci accostiamo alla miseria umana dall'esterno da lontano quando diamo uno sguardo soltanto e non ci avviciniamo con il cuore noi non esercitiamo la misericordia misericordia è compassione misericordia è perdono misericordia è condivisione misericordia non è soltanto qualcosa di spirituale non è soltanto una virtù la misericordia è una dimensione dell'uomo e soprattutto oggi credo con l'attenzione del Santo Padre Francesco verso i poveri verso le nuove povertà mentre ci spinge alle periferie del mondo noi comprendiamo come misericordia per uomini di Chiesa significa cingere un lenzuolo e lavare i piedi a chi ci viene incontro sporcarsi le mani andare e non aspettare dobbiamo saper rispondere alle esigenze dei poveri e quando parliamo di povertà non possiamo limitarci a pensare a quella persona che sta davanti alla porta della Chiesa la domenica mattina aspettando che quelli che hanno partecipato alla Messa diano qualche cosa chi sono i poveri? è una domanda importante da porci alla vigilia di Natale chi sono i poveri? i poveri per me sono tutti gli uomini ai quali è stata rubata la dignità e nella mia esperienza di di quanti anni ormai di dieci anni in Africa prima in Uganda e poi in Sudan ho potuto toccare con mano il fenomeno della povertà la povertà non è soltanto mancanza di cose anche di cose essenziali la povertà è qualcosa che ferisce l'uomo nel suo essere che gli priva la dignità che gli toglie la libertà il povero è colui che non soltanto non ha il cibo che vede morire i figli perché bevono l'acqua inquinata che si vede rubare la terra dalle multinazionali che deve respirare che deve vivere in un ambiente ostile che non può vedere i figli andare a scuola che non può avere un medico che non può andare in ospedale questi sono i poveri e i poveri non sono soltanto in Africa o in Asia i poveri sono anche tra noi e oggi tutta questa povertà si chiama mancanza di lavoro mancanza di prospettive mancanza di futuro i poveri sono quelli che non possono più confidare in niente che hanno perduto la speranza e io credo che questo anno di misericordia questo anno santo della misericordia che il Papa Francesco ha aperto e che noi apriremo domenica prossima ci voglia far capire come il cuore di Dio davvero piange per le miserie umane e come Lui ci è vicino e comprende stiamo davanti alla statua del Sacro Cuore che Dio ci ricorda che ci ha amato con un cuore di uomo per me questa è la lezione più bella di questo anno santo che Dio è vicino con il suo cuore alle sofferenze dell'uomo e che l'uomo può essere redento ecco eccellenza il tema della povertà è maggiormente forte e presente laddove venga comparato con alcune cose che purtroppo avvengono nella Chiesa Cattolica e rispetto alle quali c'è una fortissima opera di bonifica da parte di Papa Francesco lei ha detto che povero non è soltanto chi è privo di beni materiali ma chi è privato della propria dignità il fenomeno della pedofilia che è emerso e chiaramente che è stato condannato sia da questo Papa che dal precedente è purtroppo un fenomeno presente all'interno della Chiesa Cattolica come quello dell'accumulo di ricchezze il processo batilix ecco ci esprimiamo in termini giornalistici però quello che ha praticamente messo sotto accusa dei giornalisti per aver denunciato l'utilizzo di fondi destinati a opere di carità per l'arricchimento personale di qualche prelato e un altro dei temi di attualità quest'opera di bonifica secondo lei quanto a fondo dovrà andare e se è un'opera che riguarderà molti altri aspetti della Chiesa Cattolica la sua domanda ci spinge a un mi spinge a un serio esame di coscienza perché ne va della credibilità non soltanto della Chiesa ma della credibilità dello stesso Vangelo Benedetto XVI e Papa Francesco hanno ripetuto e ripetono continuamente che è tempo di fare pulizia nella Chiesa perché c'è tanta sporcizia è stato sollevato il coperchio su questo vaso di Pandora e sono venuti fuori tutti i mali i peccati le piaghe e forse ricorderà quel questo grande filosofo cristiano Antonio Rosmini che ha scritto sulle cinque piaghe della Chiesa credo che bisogna aggiungercene altre di piaghe la piaga della pedofilia che lei aveva ricordato e anche la piaga della ricchezza del denaro di mammona la piaga della pedofilia che sfortunatamente non riguarda soltanto gli uomini di Chiesa è un fenomeno che è stato presentato nella sua crudezza anche per i risvolti economici che soprattutto negli Stati Uniti le diocesi sono costrette a compensare le vittime con i propri fondi non sono i preti che pagano pagano le diocesi che sono state ridotte al fallimento ma non è l'aspetto economico che voglio che voglio menzionare assolutamente dico soltanto che sono dei crimini sono dei crimini perché feriscono in una maniera incredibile delle vittime innocenti che sono i bambini è un fenomeno che ha dei risvolti forse psichiatrici e psicologici oltre che criminali perché soltanto una persona malata di mente può abusare di vittime innocenti la Santa Sede ha eretto ha stabilito dei tribunali speciali e delle pene durissime per tutti i chierici che si macchiano del crimine della pedofilia accanto a questo Papa Francesco che fa tesoro della sua esperienza nei paesi dell'America Latina dove il tema della povertà il tema dell'impegno della Chiesa teologia della liberazione liberazione da tutti questi mali che ci affliggono ha portato anche a un'opera di bonifica all'interno degli organismi della Santa Sede dove a volte si mischiano interessi che non hanno nulla a che vedere con la carità o con il Vangelo quello che io posso dire è questo benvengano tutte queste opere di riforma che non possiamo più tollerare perché mettono a rischio ripeto la credibilità e l'opera della Chiesa che accanto che accanto a questi a questi fenomeni scandalosi scandalosi rischiano di oscurare quel lavoro quotidiano che viene fatto da tanti operatori io penso in questo momento alle suore negli ospedali negli orfanotrofi a tanti preti che in questi giorni in zone anche desolate preparano le loro comunità alle feste del Natale questa mi sembra la vera immagine della Chiesa che purtroppo quando dobbiamo leggere sui giornali che c'è ben altro non possiamo che dire e aspettare desiderare quest'opera di riforma ecco eccellenza ci avviamo alla conclusione di questa nostra intervista però prima di chiuderla una domanda gliela devo fare su quella che è stata la sua vocazione ci troviamo in questa Chiesa dove immagino lei abbia mosso i primi passi come è nata e soprattutto dove la porterà la sua vocazione sì certamente mi porterà dove mi porta il cuore la mia vocazione è nata proprio in questa Chiesa è nata servendo la Messa a questi altari accanto a delle figure di sacerdoti che restano vivi nella mia memoria come Don Giulio come Don Domenico Don Angelo Don Luigi Don Luciano non sono soltanto dei nomi sono delle persone che hanno lasciato in me delle tracce molto profonde mi hanno aiutato a scoprire la mia vocazione la mia vocazione credo che sia nata con me io mi sono sempre sentito fin dall'inizio un chiamato e posso ripetere con il profeta Geremia che il Signore ha pronunziato il mio nome fin dall'eternità non per mio merito la vocazione ogni vocazione è dono ed è mistero è dono perché non posso contare su me stesso ed è mistero perché non so dove mi porterà e della grandezza che Dio che Dio mi ha dato questa Chiesa ha visto scandire tutti i miei passi verso l'altare e come non posso non ricordare l'ordinazione sacerdotale che ho ricevuto attraverso le mani di un santo Giovanni Paolo II il 24 giugno del 79 e come non posso ricordare l'ordinazione episcopale nella Chiesa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo il 18 marzo del 2007 tutta la vita è dono tutte le cose che noi abbiamo ricevuto con gli occhi della fede sono un dono di Dio ecco la mia vocazione è una chiamata ma nello stesso tempo è una risposta io devo rispondere a questa chiamata che oggi mi ha portato in Iran prima dell'Iran mi aveva portato in Sudan prima del Sudan mi aveva portato a Vienna e prima di intraprendere questo servizio così particolare che è il servizio diplomatico della Santa Sede io ho vissuto i miei primi anni di sacerdozio nel seminario di Chieti come educatore come formatore come padre spirituale e sono davvero contento di vedere che molti di questi ragazzi oggi sono preti e qualcuno è anche vescovo è arcivescovo e quindi devo dire alla fine Deo grazias Deo grazias eccellenza lei porta all'aspetto una croce molto particolare che invita il nostro operatore a riprendere questa croce è un regalo del quale adesso lei ci dirà su quella croce c'è simbolicamente un uomo lei ha parlato di mistero e dono tra poche ore questo uomo verrà al mondo siamo proprio a due passi dal Natale qual è il mistero e il dono che ci ha lasciato quest'uomo? dunque la croce che porto adesso sempre con me non è la croce della mia ordinazione episcopale è la croce che un mio amico musulmano di Teheran mi ha voluto regalare siamo amici io e Muhammad e mi viene spesso a trovare parliamo anche di di problemi di fede e ogni volta che lui viene in nunziatura vede sempre la croce e allora mi ha voluto fare questo questo regalo che è particolare come si può vedere forse manca qualcosa in questa croce e San Paolo dice completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo vorrei io che riempire questi spazi vuoti con la sofferenza di tanti cristiani perché c'era una domanda che lei mi aveva proposto quanti sono i cristiani in Iran come vivono i cristiani in Iran in Iran i cristiani sono il piccolo gregge del Vangelo davvero un piccolo gregge pensi che la città di Teheran che ormai conta 15 milioni di abitanti e cinque volte Roma i cattolici latini sono duemila i cattolici caldei forse duemila e cinquecento gli armeni duecento persone gli armeni apostolici sono cinquantamila stiamo ancora assistendo a questo esodo di cristiani che lasciano il Medio Oriente non lo lasciano non lo lasciano tutti per le persecuzioni e per per le guerre certamente i cristiani della Siria i cristiani dell'Iraq a volte devono fare delle scelte molto molto dure se abbandonare tutto e pensare al futuro dei figli ma anche in Iran molti hanno preferito andare negli Stati Uniti in Australia e in Europa ci sono quelli che sono rimasti a questi noi siamo stati mandati siamo mandati a servire a incoraggiare a non far mancare mai la parola di Dio i sacramenti il perdono di Dio ecco allora questa croce mi ricorda tutto questo è un dono a me tanto caro perché viene dal mio amico Muhammad musulmano che ha capito che la mia vita che la nostra vita di cristiani si gioca e ruota attorno alla croce di Cristo e la festa la festa di Natale che tra poco celebreremo ci ricorda anche questo quanto sta a cuore a Dio il destino dell'umanità per questo lui si è fatto uomo è venuto in mezzo a noi per condividere la nostra storia mi permetta di fare tanti auguri ai nostri telespettatori e di dire buon Natale buon anno santo e buon 2016 grazie tanti il Signore vi benedica bene si chiude qui questa puntata speciale di Millibar la puntata dell'antivigilia di Natale siamo stati in compagnia di un ospite di eccezione sua eccellenza Monsignor Leo Boccardi originario di San Martino in Pensilis e ci troviamo questa puntata è andata in onta dalla chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo a San Martino in Pensilis abbiamo parlato di grandi cose di temi internazionali legati al ruolo di sua eccellenza che Nunzio Apostolico in Iran ma abbiamo parlato anche di temi della fede del Natale prossimo venturo dei poveri della vocazione dell'anno della misericordia dei tanti travagli interni che ci sono alla Chiesa Cattolica noi torneremo a questo punto il prossimo anno questa è l'ultima puntata del 2015 di Millibar io vi ringrazio perché anche quest'anno ci avete seguiti numerosi dalla Chiesa parrocchiale dedicata a San Pietro Apostolo a San Martino in Pensilis gli auguri miei insieme a quelli di sua eccellenza e di Alessandro Nardella il nostro tecnico che ci segue ovunque buonanotte buon Natale buon 2016 arrivederci e di di la